Musica Un emendamento al decreto fiscale in discussione al Senato in aiuto delle regioni con i conti sanitari in russo per le spese extra determinate dalla pandemia. Un paracadute parziale ma indispensabile attraverso la liberazione di altri fondi emergenziali vincolati a interventi specifici rimasti inutilizzati. Il buco, secondo la conferenza Stato-Regioni, ammonterebbe ad almeno 2,2 miliardi di euro variamente distribuiti a livello territoriale ma che pesa enormemente sui sistemi sanitari del mezzogiorno. Il Covid ha inciso pesantemente per via diretta, ovvero con l'assistenza che è stato infettato nel corso dell'emergenza e per via indiretta con l'ondata di recupero delle alte prestazioni sanitarie sospese nel corso della fase più acuta della pandemia. Le regioni invocano un intervento immediato, lamentando che gli aiuti per far fronte all'emergenza non sono andati oltre il miliardo e mezzo, ben al di sotto dei livelli registrati nel 2020. Gli hub napoletani sono deserti. Nei centri vaccinali dell'ex fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte e della Mostra d'Oltremare, l'equipo di medici e infermieri che ogni giorno sono pronti a somministrare nuove dosi si ritrovano a fare i conti con poche persone. La battuta d'arresto di questa fase della campagna anti-covid dell'Asla napoletana sono le terze dosi. La fiala booster non raccoglie percentuali incoraggianti per nessuna delle platee, a cui finora è destinata. Tra il personale sanitario, la somministrazione della dose ha superato a malapena il 50%, totalizzando 12.225 inoculazioni rispetto a una platea di 23.038 operatori maturi per la terza dose, quindi tutti con una finestra temporale di almeno sei mesi trascorsi dalla seconda dose. In pratica, fino ad ora, i sanitari vaccinati sono esattamente il 53,06% rispetto alla platea, che in potenza potrebbe ricevere la terza puntura. Anche il personale scolastico, che rappresenta la seconda categoria professionale per cui è previsto l'obbligo del ciclo vaccinale primario, sta disertando il richiamo. Il mondo della scuola a Napoli è fermo al 21,76%, con 414 terze vaccinazioni rispetto a una platea di 1.902 operatori scolastici maturi per la dose booster, ma c'è di più. Le percentuali riguardo anziani e fragili non si discostano dal flop, ma ciò che rende questi dati ancora più significativi a proposito dell'abbandono della campagna anti-Covid è l'estrema semplicità di accesso a un'offerta vaccinale ancora ampia e capillare sul territorio. Gli otto posti di terapia intensiva Covid al Cotugno sono pieni e sono occupati da pazienti non vaccinati. Sono pazienti intubati, tenuti in coma farmacologico con forme severe di polmoniti interseziali bilaterali. Ci sono poi 70 posti letto di degenza ordinaria e altri 5 ricavati al pronto soccorso per un totale di 115 posti al Cotugno dedicati esclusivamente alle cure per il Covid, di cui il 90% occupati e il 10% circa di pazienti sono infine vaccinati. L'ospedale Collinare di Napoli, interamente dedicato alle malattie infettive, è attualmente l'unico polo Covid della città insieme ai reparti infettivi e alla rianimazione del Policlinico Federico II e Van Vitelli. Nei policlinici di provincia, invece, un solo posto di rianimazione su 4 occupati e una ventina di posti letto su 40 anche qui per l'80% non vaccinati e in forma severa solo quelli senza scudo. In provincia c'è un aumento dell'afflusso soprattutto negli ultimi giorni. A Pozzuoli sono 20 malati ricoverati su 24 posti ricavati nel reparto Covid, mentre il centro Covid di 16 posti a Rizzoli e di Ischia, che aveva chiuso i battenti a settembre, potrebbe riaprire in questi giorni in quanto da due pazienti accolti in un'area del pronto soccorso a fine settembre si è passati a sei malati. Anche Giuliano e Fratta Maggiore hanno delle aree di isolamento con sei posti in pronto soccorso, ma per ora ci sono solo pazienti in osservazione. Flussi in aumento, infine, anche a Busco Tre Case, Asla Napoli 3 Sud. Anche questo è diventato un polo di riferimento di un vasto bacino d'utenza. Due delegati della Commissione europea, insieme a una cinquantina di tecnici, hanno effettuato un viaggio sulla tratta Mostra San Pasquale della metropolitana Linea 6 di Napoli. Segno che la tanto agognata infrastruttura sta per essere ultimata. Entro la primavera 2022 proprio questo tratto dovrebbe entrare in funzione, mentre a fine anno prossimo dovrebbe essere attivo l'interscambio con la linea 1 in piazza Municipio e nei prossimi anni l'approdo sino a Capodichino. L'itinerario seguito in questo viaggio tecnico ha toccato otto stazioni. Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco, Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Santa Maria degli Angeli e Municipio Porto. I vagoni utilizzati sono i cosiddetti ex LTR, previsti cinque convoglie all'apertura, con un'attesa media prevista per 12 minuti, in attesa dell'arrivo dei nuovissimi treni prodotti dai Taci, tra i 18 e i 22 treni, quelli previsti nei prossimi anni. Presente al viaggio l'assessore ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, che nell'occasione ha reso noto il finanziamento per 20 nuovi treni che andranno a potenziare l'asse metropolitano del capoluogo campano, 10 destinati alla linea 1. Molti di essi saranno acquistati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attualmente la realizzazione della linea 6 è costata 790 milioni, 200 dei quali provenienti dai fondi europei destinati alla regione Campania, 115 giunti invece dal Ministero delle Infrastrutture. All'interno di queste spese rientra anche la realizzazione delle cosiddette stazioni dell'arte, che daranno a Napoli una marcia ulteriore per la ripresa del turismo post-pandemia. Proroga per i docenti, ma non per i collaboratori e gli amministrativi. Da gennaio anche le scuole irpine potrebbero ritrovarsi senza più personale per vigilanza e sanificazioni. Esplode l'accaso dell'organico Covid. Sinacati sul piede di guerra tra Bidelli e impiegati sono oltre un centinaio i lavoratori in fibrillazione. Prestano servizio presso le 77 realtà scolastiche irpine. Il loro contratto di lavoro scade a fine dicembre. Unità in più destinate a fronteggiare la delicata situazione all'interno delle scuole, alle prese con misure e protocolli anti-contagio da far rispettare. Sospiro di sollievo invece per i professori, con le spalle al sicuro fino a giugno. Ennesima pessima figura sbotta Tonino Odoria della UIL. C'era stato detto che i fondi per i rinnovi contrattuali al personale ATA non erano stati appostati per una dimenticanza. Assurdo pensare conclude di lasciare gli istituti sguarniti proprio nel momento in cui registriamo una significativa ripresa dei contagi. Avellino rischia di perdere, ancora prima di averli ricevuti, i 37 milioni di euro destinati alla riquurificazione di Borgo Ferroviario, una versa a Quattrograne, Via Morelli e Silvati. Finanziamenti sbandierati dal sindaco Gianluca Festa lo scorso luglio, dati già come acquisiti. E invece il decreto del Ministero all'Infrastruttura ha erogato i fondi alle prime 159 proposte progettuali di tutta Italia, ma tra queste non ci sono quelle presentate dal capoluogo, notizia anticipata da Orticalab. Avellino è fuori al momento a causa di alcuni punti deboli nei progetti presentati, fermi ancora al preliminare rispetto ai prospetti di altri comuni che avevano già presentato la fase definitiva in alcuni casi esecutiva e per l'incapacità di spesa del comune, che non ha permesso la previsione di un cofinanziamento. Questo non significa che i 37 milioni di euro siano definitivamente persi, però li mette a forte rischio. Per sbloccarli bisognerà integrare la documentazione secondo le nuove richieste del Ministero e poi attendere il prossimo decreto di finanziamento. Ma i tempi sono una grande incognita. Tutte le opere previste sono assolutamente da rendicontare e collaudare entro il 2026 e trattandosi di fondi in arrivo dal PNRR non si può scherzare con proroghe permessi, visto che l'Europa sul punto si è dimostrata categorica. I tempi lenti di appalto del comune di Avellino sono noti. in ritardo nel ricevere i finanziamenti complicano una situazione che ha portato altri comuni a declinare la proposta. Meglio non fare nulla che rischiare di dover restituire milioni di euro di finanziamenti, una scelta che ora deve prendere anche il comune di Avellino. Dignità per i malati terminali è la manifestazione promossa dall'Associazione Il Nodo per difendere i diritti dei malati terminali che non sono malati di serie B. Hanno smembrato il reparto di terapia del dolore e cure palliative del Cardarelli. Unisciti a noi e il messaggio dell'Associazione per dare voce a chi è nel dolore. Ascoltiamo il dottor Vincenzo Montrone, ex primario del reparto del dolore e delle cure palliative del Cardarelli. Cerchiamo di dar voce a quelle persone la cui voce ormai, proprio perché in preda a indicibili dolori e sofferenze, non riesce ad arrivare nelle stanze giuste. Noi ci facciamo carico di questo. Il nostro compito è quello di fare in modo tale che nella nostra regione ci sia un'assistenza che rispetti la libera scelta del luogo di cura e quindi permetta agli ammalati di avere il trattamento giusto sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale. Manifestare è un atto d'amore, il dolore non aspetta e ci sono tante persone che hanno vissuto da vicino questo calvario, come Adriana Maiulo, segretaria Associazione Il Nodo. Purtroppo il mio papà ha sofferto tantissimo nel malato terminale di tumore dove stesso all'interno del Cardarelli in altri reparti non riuscivano proprio a dosare il dolore quindi lui era continuamente sofferente e desiderava di morire perché soffriva. Poi per fortuna, diciamo tra virgolette, papà ha trovato posto nel reparto di terapia del dolore che c'era all'epoca, di soli dieci posti letto e da lì diciamo ha cominciato a trovare senso, hanno trovato senso quei giorni. Portavoce della Consulta Popolare per la Salute e la Sanità di Napoli, Vincenzo Caporale invita il servizio sanitario a non lasciare sole queste persone e a intervenire. È una manifestazione su uno dei momenti ultimi e più gravi della vita delle persone però certamente quello è il momento in cui il servizio sanitario, se è un servizio universalistico deve garantire alle persone un dolce trapasso, un accompagnamento insieme a tutti i suoi familiari. Non bastava Cervinara, ora anche Altavilla, nuovo focolaio Covid in Irpinia che coinvolge interi nuclei familiari e realtà scolastiche. Quarta ondata che si abbatte con forza anche in provincia di Avellino. L'ultimo bollettino diffuso dall'ASRA ci restituisce 60 nuovi casi su 695 tamponi, tasso di positività all'8,6%. Cervinara registra 15 contagi ma preoccupare, come detto, è il caso di Altavilla con 13 infezioni accertate in un sol colpo, la metà delle quali fa riferimento ai piccoli di una sola classe della locale scuola media. Il sindaco Vanni è in attesa dei risultati dell'indagine epidemiologica avviata dall'azienda sanitaria locale per far scattare ulteriori misure restrittive. Nel frattempo, su iniziativa diretta dei gestori, sono state sospese per una decina di giorni le attività dei centri ricreativi e sportivi del paese. Quattro nuovi contagi anche a Rotondi e siamo sempre in Valle Caudina. Tre sia ad Ariano Irpino che Avellino, Castelvetere sul Calore e Mercogliano. Due a Mirabella e Clano, Vilanova del Battista e Zungoli. Nell'elenco infine con un solo caso Fontana Rosa, Lioni, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto, Serino, Sperone e Venticano. Chiedono di avere un unico referente, un soggetto unico che possa inglobare come società diverse attività di manutenzione, dai parchi alle strade, e che possa anche come clausola sociale rigarantire il lavoro a tutti loro. Sono i dipendenti delle cooperative sociali ferme per l'inchiesta giudiziaria che ha bloccato il sistema di appalti che garantiva lo svolgimento di una serie di servizi gestiti dall'amministrazione comunale di Salerno. I lavoratori anche oggi hanno continuato il loro presidio sotto il comune e ieri dopo aver ascoltato l'intervista al sindaco Vincenzo Napoli hanno deciso di chiedere al primo cittadino di prendere in considerazione la loro proposta. Allora noi l'abbiamo sentito all'intervista del sindaco e ci affidiamo totalmente a lui. La nostra proposta è questa, fare un'unica cooperativa che raccoglie tutti e continuare a lavorare con la manutenzione delle strade, dei parchi e conseguenze varie. Cioè fare un unico corpo come tipo un'altra società che raggruppa tutti. Avendo così una dignità, uno stipendio più dignitoso, questo cerchiamo noi. Siete d'accordo? Quindi un'unica società che possa inglobare tutte le cooperative e che vi possa riassorbire? Penso un unico end, una partecipata del comune. Per il nostro futuro così saremo tranquilli, noi avevamo più problemi, si stoppano i lavori, ci sono i soldi, stipendi a fine mese che non arriva. Per il nostro futuro e per la nostra prospettiva è meglio così uno sta più tranquillo, ci facciamo la pensione qua. Siamo ancora a novembre, ma Napoli si riempie già di decorazioni per Natale. Le salazioni sparse per la città, che illumineranno le strade del capologo campano già da molto presto, suscitano reazioni misse nella cittadinanza. C'è chi le apprezza e chi le critica. Il progetto della Camera di Commercio per rendere la città più accogliente e fessosa nel periodo di Natale è un continuo terreno di scontro. 36 le piazze che ad oggi ospitano le opere tridimensionali scelte. E sono proprio le opere tridimensionali ad aver sollevato un polverone molto grande. Molti dei pupazzi insallati, infatti, sembrano aver poco o niente a che fare con il periodo natalizio. Potrebbe essere una svissa dell'azienda vincitrice, che per sopperire alla grande richiesta di decorazioni ha dato fondo ai propri magazzini, contenenti purtroppo anche addobbi di un'altra natura. Il tutto peggiora quando si considerano le foto che girano sui social di queste installazioni, specialmente quando si parla di quelle sistemate in piazza nazionale, che hanno suscitato i commenti più crudi ma anche quelli più divertenti. Il presidente della Camera di Commercio, Cirofiola, però difende le sue scelte e spiega che quelle illuminazioni vanno viste con gli occhi dei bambini. Non guardate quelle strutture così come sono. Aspettate di vederle illuminate di sera e ne scoprirete tutta la magia. Nell'attesa che quel momento arrivi, questo fine settimana, ascoltiamo il commento dei passanti. Ogni iniziativa di questo genere, che vedono anche i bambini coinvolti, si fermano, è sempre bello vedere. Dopo questi periodi che abbiamo passato di crisi tremendi, penso che sia una cosa fatta veramente bene. Giancarlo Siani, Il lavoro, cronache del Novecento Industriale 1980-1985, è il libro a cura di Isaia Sales, è presentato al PAN. Il volume raccoglie 57 articoli e inchieste che Siani scrisse sul mattino, la rivista della CISL, Il lavoro nel sud e l'osservatorio sulla camorra di Amato Lamberti, su due grandi questioni sociali, la crisi industriale e l'affermarsi dei clan. Ascoltiamo Paolo Siani. Il numero di articoli dedicati al lavoro sono superiori di molto a quelli della camorra. Lui descrive una città, Cassadammare fondamentalmente, in grave crisi economica e in grave crisi di lavoro negli anni Ottanta. E qualche brano di Giancarlo, se lo leggessi adesso, e vi cambio il nome della fabbrica che chiude e mettiamo Whirlpool, è esattamente uguale a quello di oggi. Whirlpool è la crisi più famosa, ma c'è tanta gente che ha perso il lavoro. Ci sono tante persone che vivono situazioni di precarietà molto difficili. Con queste parole il sindaco Gaetano Manfredi ha ricordato l'impegno di Giancarlo Siani. A distanza di 40 anni i temi, i problemi e le sofferenze sono sempre le stesse. Mancanza di lavoro, crisi industriale, sicurezza sui luoghi del lavoro, precarietà. Devo dire, fa riflettere molto questa similitudine, perché ci fa capire come questa terra da 40 anni non sia stata in grado di dare una risposta a dei problemi che si ripetono e che vengono pagati sulla pelle dei cittadini. Grazie a questo libro abbiamo ripercorso una parte importante della storia della nostra organizzazione e di un giovane cronista che seguiva con attenzione le crisi del mondo del lavoro, ha evidenziato il segretario regionale CISL, Salvatore Topo. Giancarlo viene sempre ricordato solamente come un giornalista vittima della Camorra. Giancarlo è stato molto di più per noi della CISL in particolare e conserviamo ancora un grande ricordo perché Giancarlo all'inizio della sua carriera giornalistica ha collaborato con la CISL e con una nostra federazione. Alla presentazione del volume è anche Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL. Articoli del dopo terremoto somigliano molto alla dopo pandemia e credo le stesse ragioni della difesa del lavoro nell'area industriale di Torrenunziata la stiamo vivendo con la Whirlpool. Questo è il motivo di coniugare quella lotta di 40 anni fa con le lotte di oggi. Dopo sette anni la Maratona torna a Napoli per la prima volta sotto le insegne della SSD Neapolis Marathon alla sua prima edizione. La manifestazione che vede come main sponsor italiana Assicurazioni vedrà gli atleti in corsa tra le bellezze paesaggistiche e monumentali della città. L'evento si svolgerà domenica 14 novembre lungo un tracciato di 21,975 chilometri il quale sarà percorso due volte dagli atleti che si cimenteranno nella classica distanza di 42 chilometri e 195 metri. Come spiegato dagli organizzatori nel corso della conferenza stampa di presentazione al maschio angioino l'evento aprirà i battenti venerdì 12 novembre con il Neapolis Marathon Village all'essito in piazza del Plebiscito dove atleti e turisti potranno intrattenersi con le molteplici iniziative del programma. Ascoltiamo il presidente della SSD Neapolis Marathon Maurizio Marino. Noi avremo concorrenti importanti che correranno i cosiddetti top atleti ma anche gli amatori, gli amatori quelli che corrono per la inclusione per godersi una giornata di turismo e di sport e in quel caso gli offriamo un particolare panorama che anche i cittadini napoletani d'occo conoscono poco perché il luogo non è accessibile normalmente. Il percorso della maratona condiviso in parte con le altre competizioni della Kermes come la mezza maratona, la Neapolis Sea Run e la Neapolis Fast Walk la gara di camminata veloce inizia da piazza del Plebiscito con partenza alle 8.30 attraversando tutto il lungomare di Mergellina fino a Largo Sermoneta dove si trova la fontana del Sebeto per poi ritornare verso il centro antico passando attraverso il molo San Vincenzo zona di competenza della Marina Militare che ha collaborato all'organizzazione della Corsa e del Corso Umberto L'evento, patrocinato dal Comune di Napoli ha visto il sossegno in prima linea degli assessori Emanuela Ferrante e Antonio De Jesu Proprio per dare un primo segnale che il Comune c'è e chiaramente accoglie tutte le offerte sportive possibili perché per noi è importantissimo lo sport Sarà una bellissima giornata di festa per la città di Napoli ci saranno inevitabilmente delle problematiche di mobilità sul territorio ma noi pubblicizzeremo bene questa cosa perché i cittadini sappiano bene qual è il percorso e possono adattare i loro bisogni, le loro esigenze sul percorso Sarà un cartellone echeggiante ad inaugurare la riapertura del Teatro Partenio dopo il lavoro di restyling Biagio Izzo, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Sergio Rubini, Silvio Orlando questi solo alcuni dei nomi in programma sul sipario a questo fine settimana con il primo spettacolo in cartellone che vede sul palco Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi e Maria Grazia Cucinotta in figlie di Eva, tre donne sull'orlo di una crisi di nervi legate allo stesso uomo un politico sprogiudicato, corrotto e doppio giochista la moglie è l'assistente perfetta e la ricercatrice universitaria che aiuta il figlio a laurearsi l'uomo, dopo averle usate per arrivare in vetta le scarica tutte senza mezzi termini da cui prende forma un'intensa pies sulla supremazia maschile sull'arrivismo, ma anche sulla tenacia femminile figlie di Eva è la storia di una solidarietà ma anche della condizione femminile costretta a stare un passo indietro ma capace, se provocata, di tirare fuori le infinite risorse che una donna possiede un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di giovedì l'Italia continuerà ad essere disturbata da questo vortice ciclonico che insiste ormai da diversi giorni sul Mediterraneo occidentale determinando ancora una situazione di instabilità in modo particolare tra le isole maggiori e i versanti tirrenici notiamo infatti nel dettaglio delle precipitazioni come sempre le isole maggiori continueranno ad essere interessate da precipitazioni localmente di forte intensità soprattutto nelle prime ore del giorno sulla Sicilia mentre la situazione andrà leggermente migliorando sulla Sardegna qualche pioggia attesa anche al nord-ovest più nel dettaglio della grafica dell'Italia infatti notiamo come il nostro paese si ha le prese con nuvolosità irregolare piogge più frequenti sulla Sicilia inizio giornata ma poi anche sui versanti tirrenici del centro ma anche al nord-ovest non esclusa qualche goccia di pioggia specie sul Piemonte maggiori spazi soleggiati sull'arco alpino e al nord-est così come sul basso versante adriatico nuvolosità è bassa invece che continuerà a insistere tra la Romagna, le Marche e l'Abruzzo con qualche goccia di pioggia anche qui non esclusa clima ventoso un po' su tutti i mari grazie a tutti grazie a tutti